Musica Quando parliamo di progresso tecnologico, di innovazione tecnologica in ambito finanziario da cui deriva questo nuovo fenomeno che è il FinTech, stiamo parlando di un processo inarrestabile. Questo processo però può essere governato perché al centro c'è la relazione, la relazione umana quella che unisce il consulente al suo cliente e in questo chi si occupa di asset management quindi la parte di chi governa invece i mercati finanziari e il prodotto deve essere supportivo a mantenere solido e preponderante il peso della relazione. In un'ottica MIFI2 FinTech rappresenta un'opportunità e una minaccia allo stesso tempo un'opportunità perché rischia di sostituirsi all'uomo fin tanto che l'uomo andrà a cedere sovranità nella relazione tra investimento e l'esigenza del cliente. Noi in Etnea crediamo che invece l'importanza debba ancora vertere e essere preponderante nella relazione tra uomo e uomo e in questo cerchiamo di essere maggiormente presenti nella logica MIFI2 quindi andando a creare un modello di servizio che possa unire le competenze, la trasparenza, l'etica e l'attenzione al cliente, tutti gli aspetti insostituibili dalla macchina e quindi ad appannaggio dell'uomo nel suo successo di investimento unitamente a quelle che sono le nostre capacità di gestione e del risparmio. Questo approccio viene implementato nel nostro modello di servizio attraverso non soltanto prossimità ai nostri partner quindi reti di consulenza finanziaria, banche e reti di private banking attraverso una puntualità di dato, un accesso informativo alla nostra sala operativa di estremo dettaglio per essere estremamente consapevoli e altrettanto puntuali di quelle che sono le nostre filosofie, idee di investimento ma al contempo affianchiamo un format educativo di autoconsapevolezza per supportare i nostri partner denominato Etria Masterclass si tratta di percorsi appunto di formazione tra l'altro certificati permettono di avere crediti EFPA e quindi un'ulteriore qualità riconosciuta dal comitato scientifico di EFPA Italia che di fatto vanno a consolidare le skill necessarie per superare tutte quelle frizioni che possono generare dall'implementazione di MIFID 2 nella relazione appunto tra cliente e consulente quindi delega dalla parte gestionale per recuperare il tempo tempo che va ottimizzato nella sua qualità per andare a servire al meglio il cliente e quindi mantenere al centro nella sua relazione l'uomo